Ancora un grande appuntamento insieme con Dottor Jay, quindi benvenuti, ben ritrovati. Si parla di medicina, di prevenzione, di farvi capire in maniera semplice i passi giusti per essere a contatto con la salute, il nostro corpo, il nostro benessere. E questo lo facciamo tutti i giovedì sera qui a Super Jay insieme alla grandissima collaborazione del gruppo medico d'archivio. Stasera si parla di rapporto col paziente e anche di un libro che sta per uscire, quindi seguiteci attentamente perché abbiamo delle cose molto interessanti da farvi sapere. Io intanto do il benvenuto al dottore medico radiologo del gruppo medico d'archivio, Dottor Claudio d'archivio. Buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera anche alla nostra giornalista Antonella Formisani. Buonasera. Buonasera. Dottore, iniziamo insieme a parlare di rapporto medico-paziente. Sembra tutto molto semplice, tutto molto scontato. In realtà il rapporto medico-paziente è un rapporto molto molto delicato. Il paziente deve sapere e tante volte certi passaggi non vengono neanche affrontati. Parliamo insieme per capire effettivamente qual è il percorso giusto. Sì, certo. Ne parliamo insieme. Prima di addentrarci nel discorso io chiederei alla regia di mandare le prime due diapositive che poi ci illustrano tecnicamente che cos'è il rapporto medico-paziente. Il rapporto medico-paziente è quella particolare relazione che si instaura tra un medico ed un paziente a partire da uno stato di malattia di quest'ultimo e che è caratterizzato da specifici doveri e diritti morali e giuridici. Se mi dà la seconda diapositiva per favore. Eccola qui. Perfetto. La relazione si crea su aspetti simmetrici dati dal riconoscimento della reciproca natura umana e su aspetti asimmetrici derivanti dalle diverse competenze del ruolo che queste conferiscono a uno dei due interlocutori. Il rapporto medico-paziente è cambiato, è radicalmente cambiato negli ultimi anni. Si è passato da una fase in cui c'era il dottore che veniva visto come una specie di santone, il don, anticamente veniva don quando si parlava del medico o del parroco del paese. E c'era una sudditanza psicologica, culturale di qualsiasi genere. Quindi il medico parlava e il paziente dall'altra parte timoroso faceva tutto quello che il medico prescriveva e diceva. Ascoltava e tante volte neanche poneva delle domande. No, assolutamente. Guai porre una domanda, ma poi forse non c'era nemmeno il bagaglio culturale per poterlo fare. Oggi questa situazione è radicalmente cambiata. Perché il paziente vuole sapere, perché la cultura è, ringraziando Dio, migliorata. e quindi è in grado di recepire anche un rapporto paritario nei confronti del medico. Il quale medico ha un primo compito fondamentale, che è quello di utilizzare un linguaggio che possa essere comprensibile al paziente. Cioè che cosa succede? Cosa significa? Significa che il medico deve essere in grado di cercare di capire la tipologia del paziente che è di fronte. Certo. E quindi capire se deve utilizzare un linguaggio detto terra terra. Sì, un pochino più semplice, più semplice, perfetto. Oppure invece un linguaggio diverso a seconda, ripeto. Però un linguaggio comprensibile. Infatti se la regia ci manda, ecco, io ho detto dobbiamo coniugare il medichese verso l'italiano. Ok? Eh sì. E quindi invece di bla bla bla, tante aree, qui c'è una diapositiva che riguarda il seno, quindi le macro calcificazioni, i fibra di posi, i perecogeno, l'ago aspirato, sto dicendo, ma dire in termini semplici quello che è il problema. Qui c'è un altro problema ancora, che è quello di chi deve fare questo. Allora io faccio radiologia, come tutti i radiologi sono quelli che confermano un sospetto diagnostico. Quindi arriva il paziente che ha o con lo specialista o col medico di base o perché ha sentito qualcosa, si è sentito un nodulo al seno oppure un'altra cosa, va poi dallo specialista, cioè dal radiologo, a fare un'ecografia, una radiografia, una risonanza, un'attacca, insomma qualche cosa. Quello che serve. E si fa diagnosi. Sì. Ora, chi è che deve dare poi l'informazione al paziente? E questo è un dubbio che, diciamo, il radiologo, io faccio la mia parte, ha lasciato nel tempo agli altri specialisti, facendo la risposta e poi ci vada dal suo medico. Esatto, una volta si faceva così, dottore, la diagnosi e ecco qua la risposta fatta dal medico, che se la prendesse lui sta patata bollente, ecco un pochino era questo. Perfetto, il medico, poverino, poi soprattutto il medico di base, ma non perché non ha le capacità assolutamente, anzi, però non ha le competenze giuste per poter spiegare, soprattutto se utilizziamo il linguaggio tecnico. Cioè se cominciamo a dire area, ipoecogene, iperecogene, bla bla bla, senza poi trarre una conclusione, che cosa deve dire, come deve interpretare? Quindi, allora, la semplicità nella risposta e quindi con delle conclusioni da parte nostra. Ma soprattutto poi la capacità di sedersi di fronte al paziente e cercare in termini, come diciamo prima, semplici, di illustrare quello che poi è il percorso da affrontare. Perfetto, quello che è la malattia ed eventualmente il percorso da affrontare. Ecco, quindi insomma stiamo sdoganando un pochino il medichese, o no Antonella? Come ci si rapporta? Tu hai seguito tantissimi appuntamenti grazie al gruppo medico d'archivio. Che cosa hai visto in itinere? Sì, beh, diciamo che la comunicazione nel campo della salute è basilare. Purtroppo non sempre ne siamo coscienti. Come diceva il dottor d'archivio, soprattutto in passato il rapporto medico-paziente era un rapporto asimmetrico. Cioè c'era il dottore, il medico, il luminare che dall'alto ti faceva calare delle informazioni e il paziente che bene o male cercava di capire, di arrabbattarsi e di capire qualcosa. Ti do un dato, alcuni studi scientifici su questo argomento dicono che almeno il 20% dei pazienti non comprende appieno il messaggio che gli vuole lanciare il medico. Un altro dato che è speculare a questo è che d'altro canto buona parte dei medici dopo i primi 20 secondi di conversazione col paziente lo interrompono proprio mentre il paziente sta raccontando la propria vita, come è arrivato alla malattia, quali sono i suoi sintomi eccetera eccetera, lo interrompe e passa oltre. Quindi fondamentalmente ci sono alcuni snodi che ancora non vengono sciolti in questo tipo di comunicazione, che invece è basilare perché il paziente è sempre più cosciente, come diceva anche prima il dottore, dei propri diritti ed è sempre più acculturato, quindi bene o male ha un'infarinatura generale per poter percepire, recepire delle informazioni che il medico gli dovrebbe dare correttamente. Quindi chiede di sapere di più, ha più coscienza dei propri diritti, del diritto alla salute che lo ricordiamo è un diritto sancito dalla Costituzione, cioè l'articolo 32 della Costituzione ci dice che sancisce il diritto alla salute del paziente. Quindi noi, mi ci metto anche io perché io non sono un medico, sono paziente, noi siamo sempre più coscienti dei nostri diritti e d'altronde i medici stanno facendo, diciamo le strutture sanitarie, non solamente i medici, in questo caso parliamo di medici, stanno facendo sempre più passi avanti per venire incontro a quello che noi ormai percepiamo come un nostro diritto. E quindi adesso la relazione da asimmetrica, cioè il grande luminare, il medico col camice bianco come dicevi tu e il paziente diciamo collocato più in basso nella scala gerarchica adesso sta diventando sempre più simmetrica, no? Cioè siamo allo stesso piano, io interagisco con te, ti dico dottore magari non ho capito, spiegati meglio che mi succede, che mi sta succedendo, come affronto questa malattia. Ecco che questa è la parte più corretta. Se non erro poi scatta anche la parte dello psicologo, quindi il dottore diventa anche psicologo perché come diceva il dottor d'archivio deve capire chi ha di fronte ma allo stesso tempo deve anche cercare di far capire al paziente qual è l'approccio giusto per affrontare quella malattia. Assolutamente, hai centrato il discorso. Oggi ci dovrebbe essere molta psicologia nel rapporto medico-paziente ai quali noi purtroppo non siamo molto preparati perché il rapporto medico-paziente poi viene suddiviso anche in alcuni momenti, no? C'è il momento dell'ingresso in una stanza. Allora immagino il professore, il grande luminare tutto impettito che sta dietro una grande scrivania con una stanza immensa bellissima e sto paziente che entra lì e si trova di fronte e quindi già un primo timore. Io per esempio nella mia attività quotidiana spesso e volentieri esco dalla scrivania e mi metto davanti, ecco come siamo noi adesso a parlare, quindi con il paziente per renderlo più a suo agio, ok? Dopodiché, l'aveva accennato già prima Antonella, l'ascolto. L'ascolto è importantissimo. Cioè il paziente, allora ci sono pazienti che vogliono soltanto ascoltare e quindi, dottor, allora che c'ho? No? E quindi non vogliono sapere più niente, quindi devi tu essere, devi essere tu a parlare. Altri invece che vogliono parlarti, che vogliono raccontarti, che vogliono raccontarti la famosa storia anamnestica, no? Ti vogliono dire da dove è partito il problema e lì non bisogna interromperli. È certo che se dopo dieci minuti sta ancora a parlare, forse è il caso di dire ok, benissimo, però non arrivano mai dieci minuti. E nel momento in cui loro sono riusciti a dire tutto quello che avevano dentro, si sentono pronti ad ascoltare quello che poi tu hai da dirgli, no? Perché? Perché si sentono appagati del fatto che sono riusciti a dire tutte le loro preoccupazioni, le loro ansie, le loro titubanze. In qualche modo si sono sfogati, no? Perfetto. Perfetto. L'altro aspetto ancora fondamentale è il tempo. Ok? Io ormai da sono diversi anni non utilizzo più, non porto più l'orologio. Perché? Perché è fondamentale mentre il paziente sta parlando, mentre tu stai parlando al paziente, quell'atto meccanico che può essere di girare il polso e di vedere l'orologio è un messaggio subliminare per dire mi stai facendo perdere tempo. Cioè sto impiegando troppo tempo, ho ciò da fare, devo andare fuori. E quindi è bruttissimo. Allora, per non incorrere in questo, io personalmente ho tolto l'orologio. L'abbiamo tolto. In modo tale che ho tempo a disposizione. Certo, spesso e volentieri, poi il paziente che sta fuori ad aspettare, che vuole una prestazione o un altro, dice, eh ci sta a mettere un po' tempo. Però in quel momento è giusto dare giusto rilievo a chi ci sta di fronte. Sono alcuni aspetti importantissimi. Mi sembra fondamentale sdoganare questo rapporto che era dunque su una fase un pochino diversa, come ci raccontava in questa scala la nostra amica Antonella. Insomma, devo dire che certi nodi, come dicevate, si stanno risolvendo, ma tanti altri quanto manca per risolvere tutto il resto, Antonella? Perché mi dicevi alcuni sono stati snodati, però altri? Beh, sì, la comunicazione in campo sanitario è amplissima. L'importanza che la comunicazione ha in campo sanitario è stata percepita con ritardo rispetto ad altri campi, cioè tipo negli enti locali o nel privato. Diciamo, l'importanza della comunicazione, stranamente, perché dovrebbe essere il contrario, in campo sanitario, è arrivata dopo. È una cosa molto molto più recente, per cui è ancora, in certe volte, anche un po' ancora in fase sperimentale. Mentre invece, come dicevamo prima, nel rapporto medico-paziente, ma in tante altre situazioni, riveste un ruolo basilare, perché se tu non metti al centro della sanità il paziente, la persona, l'essere umano, e quindi la prima cosa, la cosa più importante è comunicargli dei concetti, delle situazioni, metterlo a proprio agio, voglio dire, già il concetto di sanità è salta, cioè non esiste. E quindi è una cosa veramente particolare, per esempio nel campo della prevenzione, noi stiamo arretratissimi, perché la prevenzione appunto è tutta basata sulla comunicazione, cioè io devo far arrivare alla gente il messaggio che deve comportarsi in questo modo, deve farsi questo esame, deve curarsi. Deve assolutamente stare dietro a delle cose importanti, per evitare, per prevenire delle malattie. Se io parlo alle persone e questo messaggio non arriva, automaticamente la prevenzione fallisce, il messaggio non arriva, non è efficace e quindi io non ho fatto niente, ho sprecato solamente tempo, energia e denaro. Capisco, capisco effettivamente il problema. Poi è chiaro, si impegnano i dottori a comunicare meglio, quindi no al medichese, ma sia ad una comunicazione un pochino più adeguata, però dobbiamo anche far capire a casa che dobbiamo noi pazienti essere un pochino più anche disposti ad ascoltare, perché tante volte ci viene data a me una diagnosi non proprio bellissima e magari insieme al dottore cercare un percorso interessante da fare. Tante volte il nostro problema, Antonella non so se mi puoi confermare, sono paziente anch'io, è la voglia di mettere la testa sotto la sabbia e così non si fa altro che peggiorare la situazione. Quindi insomma bisogna impegnarsi da entrambi i lati. Come no, assolutamente. Parlavamo prima di tanti convegni che il gruppo medico d'archivio ha organizzato e sta continuamente organizzando perché la vostra voglia di uscire fuori è forte. Questi convegni sono stati fatti e chiaramente l'idea di Antonella Formisani e del gruppo medico d'archivio, quindi con il nostro dottor d'archivio, è quello proprio di fare uscire un libro. Che cosa succederà a breve? Che cosa c'è scritto in questo libro? Prendo io la parola e poi lascio la spiegazione di quello che sarà il contenuto ad Antonella. Dicevamo prima appunto l'informazione, infatti il nostro slogan è informare per prevenire, cioè non si può fare prevenzione se prima non si è fatta informazione. Se prima non si informa di quello che sono le problematiche, di come si può fare prevenzione, la prevenzione non si fa. Quindi le campagne di prevenzione che sono validissime, validissime per l'amor di Dio, devono essere prima comunicate bene, bisogna informare. Si diceva anche della capacità del paziente di recepire poi un certo tipo di messaggio. Spesso e volentieri facendo esami ti dicono dottor io non voglio sapere niente, io non voglio sapere di quello che ho, non mi dire quello che ho, non mi dire quello che ho, ma d'altra parte a chi bisogna dirlo poi? No, il problema è anche questo. Ok, questo era per terminare il discorso di prima. Sì, noi abbiamo fatto appunto sul tema dell'informazione per la prevenzione, abbiamo fatto diversi workshop a Giulianova, al Cursal, abbiamo fatti 21 per la precisione in più o meno un anno, un anno e pochi mesi e così parlando con Antonella, ma da una sua idea, poi ce la spiegherà lei, abbiamo detto abbiamo tanto materiale perché abbiamo tutto registrato e quindi tantissimo materiale perché abbiamo trattato la prevenzione in lungo e in largo, prevenzione oncologica quindi con la prevenzione del tumore al seno, al colon, al polmone, la prevenzione della nutrizione, la prevenzione delle patologie della tiroide piuttosto che della prevenzione della patologia della pelle, la prevenzione anche dell'aspetto psicologico perché abbiamo fatto anche un tema, trattato il tema della medicina estetica quindi insomma la prevenzione a tutto tondo. A 360 gradi. A 360 gradi. Parlando anche di alimentazione, passando poi per altre tematiche insomma che fanno parte della nostra quotidianità e allora Antonella che cosa è uscito fuori? Guarda, l'esperienza, io ho moderato parte, buona parte insomma di questi convegni, l'esperienza è stata veramente molto molto interessante, direi che mi ha arricchito, mi ha arricchito professionalmente, culturalmente insomma sotto diversi aspetti perché a parte la possibilità di interfacciarsi e interloquire per un certo periodo di tempo quindi per diciamo un'ora con dei veri esperti, cioè con degli specialisti che affrontavano in maniera estremamente semplice e comprensibile un determinato problema appunto che poteva essere una patologia di tipo, insomma diciamo più gravi ma anche patologie più leggere, insomma anche ci sono stati anche momenti se vogliamo più divulgativi ed è stata veramente una cosa molto interessante, ma al di là di questo c'è stato un valore aggiunto, allora di solito la prevenzione come si fa? La prevenzione classica è questa, c'è in un convegno c'è un luminare, uno specialista che si siede, parla alla platea in maniera diciamo quasi automatica con o senza delle slide, punto e basta, oppure altra prevenzione si fa con dei dépliants, con delle piccole pubblicazioni eccetera eccetera, cioè è una comunicazione a senso unico, medico verso paziente, punto e basta. Il paziente di solito non interviene, non può mandare il feedback e il problema è questo, cioè non c'è il feedback e quindi la comunicazione diventa inefficace perché io non saprò mai, come dicevamo prima e il discorso è sempre lo stesso più o meno applicato in diversi campi, non saprò mai come è stata recepita l'informazione, se il paziente ha capito, quanto ha capito, se io mi sono espresso bene e gli ho fatto capire per esempio posso avergli dato un'impressione sbagliata delle informazioni che lui ha percepito male e quindi addirittura dannose in alcuni casi, se sono troppo complesso, e quindi non avendo il feedback io faccio una comunicazione del tutto inefficace, cioè non serve praticamente, serve a poco diciamo non serve a niente, ma serve a poco. Invece in questi convegni noi abbiamo a volte diciamo in parte consciamente, in parte inconsciamente, dato vita a un nuovo moderno tipo di comunicazione che è una comunicazione a doppio senso, cioè parla il medico al paziente ma poi il paziente parla al medico quindi praticamente c'era un dibattito alla fine di questo convegno, alla fine del momento didattico in cui il medico spiegava come prevenire il cancro, come sfuggire all'ernia eccetera eccetera insomma per fare due esempi, poi altrettanto la parola alla platea che chiedeva informazioni come fare in questo caso, come fare in quell'altro caso, in casi specifici o casi invece più generali e si dava vita a un vero e proprio flusso di informazioni a doppio senso e anche a tanti chiarimenti come no? e diciamo che la parte più importante, cioè la parte più efficace è stata proprio questa che di solito non si trova nella prevenzione esatto, quindi insomma un nuovo modo di fare comunicazione e di fare prevenzione da tutto questo l'idea di questo libro l'idea di questo libro che viene chiamato come? il titolo provvisorio è 12 mesi di prevenzione un libro per prendersi cura del proprio futuro perché appunto abbiamo voluto racchiudere suggellare, no? sì, sì questi 21 incontri che avete fatto questi 21 incontri che abbiamo fatto con questi vari specialisti appunto volti tutti alla prevenzione primaria perché poi ci sono diversi tipi di prevenzione quella che abbiamo fatto noi in questo anno circa di convegni, di incontri, insomma chiamiamoli come ci pare è ovviamente la prevenzione primaria le prevenzioni, lo ricordo così, giusto per dire sono di tre tipi, di tre livelli la prevenzione primaria è appunto quella volta a ridurre l'incidenza di una patologia nella popolazione ripeto patologia della pelle state attenti a come vi esponete al sole banalizzando, faccio un esempio questa è la prevenzione primaria poi c'è la prevenzione secondaria che ha lo scopo di individuare precocemente una patologia e in questo caso noi non c'entriamo niente che in questo caso parliamo di screening quindi gli screening che fanno le strutture pubbliche e che coinvolgono non so, abbiamo visto insomma ce ne sono in corso tanti in Abruzzo quindi lo screening per il cancro al collo dell'utero lo screening per la mammella insomma il colon insomma ce ne sono diversi poi vabbè quella diciamo terziaria è volta a ridurre la gravità e le complicanze di una malattia che ormai è conclamata e quindi siamo all'ultimo livello e quindi insomma diciamo noi ci siamo con questi convegni poi insomma per quello che mi riguarda esclusivamente prevenzione primaria e l'obiettivo è di fissare alcuni criteri basilari che sono emersi nel corso e anche alcune curiosità anche paure se vogliamo del paziente fissarle in una pubblicazione che poi continuerà quindi l'opera di prevenzione perché poi verrà diffusa poi lo dirà il direttore eh sì, facciamo una bella distribuzione no direttore? sì sì, una distribuzione sarà fatta sarà fatta innanzitutto nei centri di competenza che fanno parte del gruppo ma poi abbiamo intenzione anche di di portare questo documento anche fuori in convegni in altri convegni per pubblicizzarlo e probabilmente distribuirlo in modo gratuitamente quindi per fare quell'opera di informazione diretta sulla popolazione per continuare quel filo che avete iniziato a certo a tessere no? per per far comunicazione a 360 gradi quindi insomma davvero un bellissimo progetto complimenti io vi ringrazio per essere stati con me abbiamo raccontato delle cose molto molto interessanti spero di vedervi presto e quindi vi auguro una buonissima serata ringrazio il dottor Claudio D'Archivio medico radiologo del gruppo D'Archivio grazie e alla nostra amica giornalista Antonella Formisani grazie per tutto il lavoro che fai continuamente Antonella grazie noi invece se avete voglia ci ritroviamo qui a Super J con Dr. J la settimana prossima per un altro grande giovedì sera buona serata a Super J a Super J